Un libro che lascia il segno, che racconta risvolti e dettagli assolutamente inediti di una guerra spietata e senza sosta, che l'andrangata combatte oramai a suon di milioni di dollari in tutto il mondo sui mercati finanziari che più contano, investendo fiumi di denaro illecitamente ricavati dal traffico internazionale della droga. Un saggio spietato soprattutto per il linguaggio usato e per il modo con cui Nicola Gratteri e Antonio Nicaso hanno scelto questa volta di spiegare al grande pubblico il vero ingranaggio criminale che governa oggi il mondo finanziario, non solo italiano e non solo europeo. Una sorta di romanzo criminale che parte dalla Calabria per arrivare poi nei paradisi fiscali più elittari e più misteriosi del mondo, dove i soldi dell'andrangata vengono depositati e reinvestiti poi in operazioni questa volta perfettamente legali e comunque assolutamente inattaccabili sotto il profilo penale. Ma anche un'ennesima testimonianza di coraggio da parte di questo magistrato che da 30 anni vive una vita blindata e da parte del suo amico più caro Antonio Nicaso che da altre tanti anni analizza sentenze aggiornandosi continuamente sulle dinamiche delle varie mafie. Fiumi d'oro è stato presentato ieri nella sala polifunzionale dell'ex chiesa matrice di Palazzo Garafa a Roccella Ionica.